Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Come va innanzitutto? Allora, vi devo parlare di una situazione molto molto particolare, molto molto bizzarra, che negli ultimi tempi, come al solito, va a descrivere un pochino il momento del calcio italiano. La Serie B. Che bella la Serie B. C'è una squadra in Italia che gioca con le strisce come noi, ma con colori diversi, che la Serie B ci sarebbe dovuta andare in Serie B per una ragione diversa. Ma siccome ha sempre avuto la capacità di compiere degli atti evidentemente piacevoli da un punto di vista anche fisico nei confronti dei dirigenti della Riga, si salva sistematicamente. E probabilmente si salverà anche stavolta, anche se qualcuno grida e urla Inter in Serie B. Ma perché tutto questo? Perché l'Inter nel corso degli scorsi mesi, degli scorsi anni, avrebbe schierato un giocatore, di cui adesso non ricordo neanche il nome, di origine africana, con documenti falsi e passaporto illegale. E quando mai? È un'abitudine l'Inter. L'Inter è una vita che fa così. Ha cominciato da Recova, negli anni 90, dove sono stati anni a farlo giocare con passaporto falso. Poi si sono inventati una cavolata enorme per cercare di fare qualcosa, alla fine da buoni immondiziai, quali sono? Perché sono degli immondiziai, dalle mie parti si dice sono dei pidocchi, li fa dei poveri d'animo, da questo punto di vista continuano, insomma, a descrivere questa cosa. Insomma, vi parlo, vi parlo un po' di questa cosa, perché ci sono veramente tante cose da dire che dovete fare semplicemente alt. Una cosa semplice, semplice, semplice. Semplicemente. Qua sotto dovete semplicemente iscriversi, iscrivervi, mette like e attivate la solida campanellina. Mi raccomando, una volta che vi siete iscritti, mettete like e attivate la solida campanellina di ogni via, prima di sempre aggiornati, mi raccomando, è veramente molto importante, se vi va, fate questa cosa. Molte cose, ah, secondo me anche i social, immaginate un attimo cosa sarebbe accaduto se un nostro giocatore, giovane, anziano, qualsiasi tipo di giocatore fosse stato preso con un passaporto falso a giocare. Voi immaginate cosa ci sarebbe stato in Italia, immaginate cosa ci sarebbe stato in Italia. La gente ci avrebbe scritto i cosi, i papiri, tutti avrebbero parlato di questa cosa. L'ha fatto l'Inter, non ne parla nessuno. O non ne parla uno, non ne sta parlando uno, una persona, una, che sta parlando di questa cosa, non c'è, allora ho detto fammi fare un video su questa situazione. Non c'è uno che sta parlando di questa situazione, una persona che c'è. O è possibile che l'Inter ogni volta che si trova in una situazione particolare non viene mai considerata? Cioè, ma l'Inter effettivamente chi è che si porta a letto? Perdonatemi, perché scusate, ma questa situazione qua l'ha chiarita una volta per tutte. Con chi va a letto l'Inter della Lega Calcio che ha una relazione passionale, sentimentale? Perché io capisco che la carne sia... però cavolo! Cioè, io capisco che la fisicità, che fare l'amore sia bellissimo. Ma, oddio, non voglio manco pensare a cosa sto pensando in questo momento con i protagonisti. Ma chi è che si porta a letto l'Inter? Però chi è dell'Inter che va a letto con qualcun altro che protegge lì? Perché non è possibile. Perché non è possibile questa cosa. L'Inter continua ad avere ogni modo, ogni cosa, un aiuto. E loro di tutti i tipi, ragazzi. Protezione ovunque. Oh, scandalo dei passaporti. In altra volta un ragazzo con un passaporto falso, addirittura a nome di me, tutta una cosa stranissima. Ce ne fosse uno che parlasse della situazione. Non ce n'è uno. Oh, non ce n'è uno che parla della situazione. Possibile che non ce ne sia uno che parli della situazione. La Juventus è stata accusata di qualcosa che tutta l'Italia faceva, tutto il mondo in realtà, però, tutte le in Italia facevano operazioni normalissime. Abbiamo avuto problemi per questi passaporti falsi, aiuti di lì, protezione di qua. Non ce n'è uno che parla. Cavolo, non ce n'è uno che parla. Crivello, con chi hai una relazione? Per forza devi avere una relazione con qualcuno. Non mi dite che io sono malpensante, ma ci deve essere qualche cosa. Non è una relazione, deve essere una simpatia. Ci deve essere qualcosa. Ci deve essere qualcosa. Perché non è possibile che una squadra che continua a fare reati, venga palesemente protetta da tutti. Anche dal sistema. Io non ce n'è uno che ne parla. Questi hanno preso, sto giocatore, è stato due anni in campo, ha giocato, poi è andato in press, non so che cosa ha fatto. Comunque un ragazzo tesserato regolarmente, dal tesseramento regolarmente, preso, con il passaporto illegale, con i documenti falsi. Nessuno ha parlato. Allora l'Inter non sapeva niente? Cioè mi volete far credere che l'Inter non sapeva niente di questo giocatore che aveva documenti falsi, che aveva un passaporto illegale? Non sapeva niente? L'Inter non sapeva niente. L'Inter non sa mai niente. L'Inter non conosce confini, capito? L'Inter non sa mai niente. L'Inter nella sua vita non sa mai niente. L'Inter è sempre innocente. L'Inter è sempre innocente. L'Inter è una vita che fa le cose e poi si nasconde dietro gli altri. L'Inter è sempre innocente. Voi non potete immaginare, veramente, la pezzentata. È una cosa impressionante. Cioè ma di che stiamo a parlare? Cioè ma di che stiamo a parlare? Ancora, ancora con l'Inter. E mi devo sentire la morale da chi ti fa io no? Perché voi avete fatto questa cosa. Voi noi abbiamo fatto questa cosa. Io ti faccio una lista così con tutti i reati. Ma di che stiamo a parlare? Ma di che cosa parliamo? Ma tu dovresti baciare piedi e mani alla Juventus. Perché è l'unico motivo per cui tu esisti. Perché tu con chi sei tornato a vincere? Con la Juve. Quindi un dirigente veniva dalla Juve. Un allenatore che veniva dalla Juve. Chi è preso? Il soggetto è una Juve. Sempre e comunque. È una vita che cercate di essere, di imitare praticamente. Ma sempre copie siete. Questo è il discorso. A non venire, a discutere di situazioni del genere. Bo? 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 se voi giudicate questa è una cosa normale se voi tutta questa situazione la giudicate una cosa normale io non so che dirvi voi giudicate questa cosa una cosa normale voi ritenete che tutto questo sia una cosa normale è possibile che l'interno non è mai coinvolto in niente ora io non ce l'ho con l'inter personalmente cioè io l'inter non la sopporto ma in questo caso io non ce l'ho con l'inter personalmente io ce l'ho col sistema attuale nel senso è possibile che c'è uno scandalo che riguarda un club e non si dice niente se fa mezza cosa qua automaticamente scoppia il purifero perché? è logico che dal mio punto di vista però vedi che loro hanno fatto perché a loro niente non c'è una multa non c'è un provvedimento c'è niente è un continuo avere problemi con la Juve allora lì ti dico che ci stiamo a fare qui per quanto riguarda la situazione relativa alla Lega e da non che me era andato se fossi stato per la Juve avrei fatto modo e maniera per vedere se c'è stava perché comunque questo paese è un paese di paglia questo è un paese c'è un cervello così ecco questo è il cervello questo è il dito che entra nel cervello questo è non c'è altro non c'è altro cioè questo ha giocato due anni con un passapoco tutto falso non era manco lui tutto falso tutto a posto c'è uno che parla uno che sbaglia niente il silenzio più totale il silenzio più totale perché non sia non può essere mai non sia mai non sia mai non sia mai dire la verità e dire guarda che tu hai fatto sta cosa cerchiamo di capire un pochino non sia mai che stai a scherzare ma che stai a scherzare stai scherzando a credere di poter andare a dire delle cose oppure a credere di poter dire credere di poter avere un'opinione su questa situazione no non si fa non puoi avere un'opinione non puoi dire la verità capito? perché se questa cosa qui questa cosa qui doveva avere un altro proprio perché se sta stessa identica cosa a un altro l'inter l'inter non si tocca l'inter è intoccabile l'inter è intoccabile cioè io veramente sto mi stanno mi si stanno fracassando mi si è rotto tutto ok ho avuto una rottura totale delle varie cose io non posso ogni volta venire perché poi la gente dice no perché tu sei juventino tu parli dell'inter perché tu non sopporti ok tra l'inter c'è un rapporto sicuramente che non è semplice siamo d'accordo ok per tanti motivi dovuti al fatto che vabbè lascia bene ma a prescindere da tutto sta cosa qui è vera del ragazzo che non c'è perché nessuno le parla perché nessuno riesce a dire la verità perché avete paura di parlare dell'inter che c'era l'inter c'ha qualche organizzazione crimine che cosa c'è che vi fa paura dell'inter perché non parlate dell'inter perché non si parla dell'inter perché non si parla dei problemi dell'inter perché qui si parla solo dei nostri perché non si parla di voi io veramente vorrei il vostro numero di telefono qualcuno mi dà il numero di telefono di Zang dell'inter qualcuno ce l'ha qualcuno ce l'ha il numero di telefono del presidente io voglio chiedere a Zang che cosa come si fa ad avere questa situazione di tranquillità perché Zang me la deve spiegare io voglio pagarlo bene io ti pagherò pur di sapere che cosa fai tu per cercare di essere così tranquillo perché io vedo quest'uomo quest'uomo è l'immagine della serenità bello col capello tutto liftato vestito in un certo modo tranquillo sereno tu lo vedi bello 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 tutto bello paffutello tutto tranquillo tu lo vedi è serenissimo perché perché nessuno li rompe ogni due minuti allora io chiamo Zang e gli dico spiegami come fai spiegami spiegami come fai no chi è con chi hai una relazione della rega calcio con chi è che te baci appassionatamente della rega calcio perché vogliamo e chi vuole noi mandiamo ferrere noi ne mandiamo qualcuno chi volete che mandiamo mandiamo giuntoli giuntoli è bellissimo bello paffutello pure lui con le gualciotte capelli lunghi bello elegante lo mandiamo e gli facciamo avere anche a lui una relazione con qualcuno della rega calcio cioè sarà una qualcuno che vuole avere una relazione con Cristiano giuntoli dico io è l'unico modo per cercare evidentemente di essere protetti perché se no si spiega si spiega se no non si spiega oh mai una volta che sentissi una polemica su di loro mai c'è sta lei che dice vabbè non senti polemiche però comunque sono no qui ce ne sta uno ogni giorno non senti mai polemiche tutti tutti zitti siamo tutti zitti non fiatare non dire neanche una parola perché se tu dici pure una parola pum è finita non dire una parola questo è allora vogliamo scoprire con chi hanno una relazione sentimentale possiamo scoprirlo è un segreto guarda l'amore è bellissimo cosa bellissima quindi si può si può è neanche è una cosa che io l'amore non va tenuto nascosto capite qual è il discorso l'amore va vissuto alla luce del sole alla luce l'amore va vissuto la vita nella vita di tutti i giorni l'amore vissuto nella vita nel modo di essere e allora noi mandiamo un nostro dirigente vogliamo vedere se riusciamo anche noi ad avere un aiuto all'interno perché l'unico modo l'unica cosa perché a me mi viene in mente per cui queste persone lo riescano mai ad essere prese è sta cosa qui chiamatemi malpensante chiamatemi non lo so malizioso chiamatemi no malizioso non c'entra niente allora però boh allora una cosa che non si può sentire non si può veramente sentire io sono esausto io faccio sti video ma io sono esausto sembra che ho fatto una conferenza dei 40 minuti io sono esausto perché non è la quantità ma è la qualità io poi mi sono intenso quando parlo quindi sono esausto quando finisco sti video tu non ti puoi immaginare quindi cerchiamo di ripeto non lo so di mandare qualcuno di cercare di mandate qualcuno va bene qualche bel il dirigente più bello che noi abbiamo va bene quindi fatemi sapere noi mandiamo un dirigente